È online l'app ufficiale del comune di Capaccio Pestum. Si tratta di una piattaforma semplice e intuitiva per i cittadini ma anche per i turisti che sceglieranno la città dei templi. È uno strumento nuovo disponibile sia per iOS che per Android per avere la città a portata di mano. È possibile scaricare gratuitamente l'app realizzata dall'azienda capaccese Easygest da App Store e da Google Play. Stamattina vi presentiamo l'app che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione gratuitamente per i cittadini e per i turisti. La cosa particolare e piacevole è che è stata creata da una società di giovani professionisti capacisi Easygest e in particolare da un giovane professionista Antonio Mondelli. Con questa app si potranno attingere notizie più utili e svariate. quelle dell'ente e quelle delle attività commerciali, turistiche, quindi una città più moderna e più smart.